Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è le gemelle Donatella sono un duo televisivo diventato celebre negli ultimi anni. Le due sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi sono state scelte come concorrenti del talent show X Factor nel 2012. Si sono presentate in trasmissione con il nome di, Pros Destination e successivamente hanno mutato il loro nome artistico. Ma per quale motivo sono apparse nuovamente in televisione nelle ultime ore? In occasione di cosa, e perché la loro apparizione è stata astramente criticata sul web? Ecco tutti i dettagli su questa vicenda. Le Donatella e la loro contestata apparizione, le Donatella sono nate a Modena il primo dicembre del 1993. A 19 anni sono diventate famose, come detto, per la loro apparizione nel noto talent show X Factor, in onda su Sky 1. Il loro noto artistico è mutato proprio nel corso della trasmissione, grazie alla proposta di Arisa. Il loro nome è un tributo alla grande Donatella Rettore. Infatti, le due ragazze hanno ammesso di essere grandi ammiratrici della nota cantautrice italiana. Nel 2013 è uscito il loro album d'esordio, Unpredictable. Oltre alle loro performances musicali, le Donatella sono diventate un duo televisivo celebre per alcune partecipazioni in diversi reality show di successo. Nel 2015 hanno trionfato all'Isola dei Famosi all'epoca condotta da Alessia Marcuzzi, aggiudicandosi il monte premi di 100.000 euro, davanti a Brice Martinet e a Cecilia Rodriguez. Nel 2018 hanno preso parte separatamente alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Una delle due gemelle Silvia si è piazzata al terzo posto finale. Ma per quale motivo sono state criticate le Donatella nelle ultime ore? Quale apparizione televisiva ha suscitato alcune reazioni avverse da parte delle persone sul web? Ecco che cosa è accaduto. Le critiche, nella serata di venerdì le due sorelle Donatella sono state prese di mira sul web e il loro nome è tornato dopo diverso tempo in tendenza anche su Twitter. Il motivo? La loro apparizione in un video mandato in onda nella trasmissione di Rai 1 Tecetechete, in onda subito dopo il telegiornale. Il tema della trasmissione riguardava la sorellanza, e in uno dei tanti video mostrati sono apparse anche le sorelle Donatella. Un qualcosa che non è piaciuto ai tanti telespettatori che stavano assistendo al tanto amato programma di Rai 1. Fra i tanti messaggi su Twitter, infatti, si possono leggere pareri negativi, come, ma seriamente le Donatella, se anche le Donatella arrivano su Tecetechete, direi che è finito il mondo. Come avranno preso le gemelle le critiche ricevute sul web per questa loro, involontaria, apparizione televisiva? Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie a tutti.